Ciao e benvenuti di nuovo qui sul canale. Leggiamo il messaggio di San Michele Arcangelo dato a Luzide Maria il 26 settembre 2024. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e condividere questo video con più persone possibili. Se i miei video vi piacciono potete anche attivare le notifiche dalla campanella così da non perdervi i prossimi video. Iniziamo a leggere il messaggio. Messaggio di San Michele Arcangelo dato a Luzide Maria il 26 settembre 2024. Io vengo a voi per ordine divino, amati figli del nostro re Signore Gesù Cristo. Il tempo sta passando in modo accelerato, lo ha permesso la divinità. Sono molti i segni che sono davanti a voi, segni che vi devono portare ad aprire gli occhi, perché siate preparati. È molta la parola che avete ricevuto affinché non veniste colti alla sprovvista, in quanto sentirete poi parlare di guerre, di rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi, è necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine. Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Matteo capitolo 24, versetti 6 e 7. Così è scritto. Quello che sta succedendo, quello che avete sotto gli occhi e che considerate bagheggiamenti, si sta compiendo in questo momento, senza che voi lo crediate. State procedendo come ciechi spirituali. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figlio, ma soltanto il padre. Matteo capitolo 25, versetti 35 e 36. L'umanità vive offendendo il nostro re Signore Gesù Cristo. Sta vivendo nella follia della mondanità. Il frastuono, da un momento all'altro, diventerà silenzio assoluto. Amato popolo del nostro re Signore Gesù Cristo, l'oscurità si sta avvicinando, non solo quella causata dal blackout che colpirà tutto quello che è stato costruito dall'uomo, ma l'oscurità spirituale si accentuerà in coloro che non amano, che non adorano, che non attendono il re dei re e Signore dei Signori. Apocalisse 19, 16. La fede è necessaria in ogni momento. Figli, con il trascorrere degli eventi, il nostro amato angelo della pace si sta sempre più avvicinando a voi. Lui desidera che voi siate amore, fratellanza e rispetto, così che riusciate a mantenere la fede salda e forte, senza forviarvi. Il nostro amato angelo della pace verrà a voi, giovane com'è, a trattarvi con amore, come lo richiede il primo comandamento della legge di Dio. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Matteo, capitolo 22, versetti 37-39. Lui verrà, con l'essenza della fratellanza, per offrirla a voi, suoi fratelli. L'angelo della pace sa che la forza risiede nella pace interiore, sa che la forza dei figli della Trinità Sacrosanta traspare dalla loro umiltà. Lui vi porterà la parola divina, eppur non essendo divino, lo riconoscerete dalla sua sapienza, dalla sua intelligenza, dal suo consiglio, dalla sua forza, dalla sua scienza, dalla sua pietà e dal suo timore di Dio, ed esigerà da voi il condimento dell'amore e dell'umiltà. Figli appartenenti, trattati, che in questo momento aspirano alla pace, non contengono vere intenzioni. Svegliatevi, figli del nostro Re Signore Gesù Cristo. Svegliatevi, la pace è lontana. Voi chiamate il nostro Re Signore Gesù Cristo, siate facilitatori della pace, a quali figli della nostra regina e madre siate testimoni dell'amore che avete in voi. C'è un'etichetta spirituale che definisce in quale modo opera ed agisce con lui che è un vero figlio del nostro Re Signore Gesù Cristo. La pazienza è una benedizione, l'umiltà è un requisito. Pregate figli del nostro Re Signore Gesù Cristo, pregate per il Canada, pregate per i miei figli della Palestina e della Cina, pregate per l'India, si trovano in pericolo. La persecuzione religiosa avrà luogo a un ritmo allarmante. Pregate figli del nostro Re Signore Gesù Cristo, pregate, la terra tremerà nella maggior parte dei paesi. Pregate figli del nostro Re Signore Gesù Cristo, il corpo mistico della Chiesa patirà. Pregate figli del nostro Re Signore Gesù Cristo, pregate. Il governo mondiale prenderà il controllo definitivo sull'umanità. Figli, l'umanità vedrà cadere fuoco dal cielo, fortificate la fede perché possiate riuscire a discernere. In questo mese, dedicato a noi difensori del trono paterno e voi protettori, vi benedico in modo speciale. San Michele Arcangelo, Ave Maria Purissima concepita senza peccato. Ave Maria Purissima concepita senza peccato. Ave Maria Purissima concepita senza peccato. Leggiamo adesso il commento di Luzide Maria. Fratelli, oggi San Michele Arcangelo ci rivolge un appello speciale alla conversione. Ci invita ad appartenere maggiormente al nostro Re Signore Gesù Cristo, per poter assomigliare al nostro Signore Gesù Cristo. Prepariamoci necessario il cambiamento per non vivere nell'oscurità. Fratelli, stiamo attenti alla nostra salute. Presto inizierà il contagio mondiale con la malattia derivata dalla precedente pandemia. Noi non siamo soli, il Dio unettrino, la nostra Madre Santissima, gli angeli di Dio sono con noi, pronti a difenderci. Amen. Questo era il commento e anche il messaggio di San Michele Arcangelo dato a Luzide Maria il 26 settembre 2024, quindi qualche giorno fa. Il messaggio è sempre molto chiaro. Inizia dicendo che comunque Dio ha accelerato il tempo, quindi sta passando molto velocemente. Accorgetevene anche dalle stesse giornate che sono più corte. E questo è perché lo ha permesso solamente Dio, in maniera tale che questi tempi passino più velocemente possibile. Poi il messaggio continua dicendo che ci sono molti segni davanti a noi, ma siamo noi che non avendo gli occhi ben aperti non riusciamo a percepire quello che sta accadendo nel mondo. Questo ci serva da insegnamento per poter imparare ad aprire gli occhi e a capire quello che sta succedendo attorno a noi, in maniera da essere preparati per quello che dovrà arrivare, soprattutto per la guerra. Infatti il messaggio dice, sentirete poi parlare di guerre, di rumori, di guerra. Guardate di non allarmarvi, è necessario che tutto avvenga, ma non è ancora la fine. Quindi, sentiremo parlare di guerre guerriglie che non sono guerre vere e proprie. Ecco, sì, ci sono persone che purtroppo muoiono, ma non sono delle guerre grandissime. Le vere guerre sono come la prima, la seconda guerra mondiale, ma dovrà arrivare appunto la terza. Quindi non allarmiamoci quando ci dicono ah, sta arrivando la guerra. No, perché non è quella la guerra. Quelle sono le guerriglie, che purtroppo vengono create per opera di persone che si credono potenti. Quindi, il messaggio continua dicendo, questo è un versetto di Matteo, capitolo 24, versetti 6 e 7, che tutto questo è necessario che venga, ma non è ancora la fine. Quindi, si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno delle carestie e terremoti in vari luoghi. Quindi, mentre ci saranno delle vere e proprie guerre, ci saranno anche degli avvenimenti come carestie, terremoti. Ecco, questi insieme alle guerre faranno, diciamo, piazza pulita, chiamiamola così, ma non dovrebbe. Così è scritto, perché appunto è scritto nella Sacra Bibbia che è quello che deve accadere. Ricordate che la Bibbia dice la verità e niente può essere contraddetto, perché quella è la parola di Dio. Poi il messaggio dice che quello che sta succedendo è quello che abbiamo sotto gli occhi. Noi li consideriamo cose stupide, ma in realtà non sono cose stupide, perché noi attualmente siamo come delle persone cieche, ma cieche non perché abbiamo gli occhi chiusi che non vediamo e quindi siamo come dei ciechi. No, noi siamo ciechi spiritualmente, che è tutta un'altra cosa. Quindi bisogna aprire, tra virgolette, gli occhi per capire quello che sta succedendo nel mondo. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quando a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa. Neppure gli angeli dei cieli, neppure il figlio, ma soltanto il padre. Quindi quello che voi andate a cercare date, orari o altre cose, purtroppo queste non li trovate da nessuna parte, perché nessuno sa quando accadranno queste cose. Neppure il figlio, ma soltanto il padre. Quindi solamente Dio sa quando ci sarà la guerra, quando ci sarà l'avvertimento, il miracolo, quando ci sarà la seconda venuta di Gesù Cristo. Noi non lo possiamo sapere. Poi il messaggio continua dicendo appunto è un avvertimento quello che ci dà in questo messaggio, come in tutti gli altri messaggi. Qua fa riferimento molto anche al messaggio del 21 settembre, quando parla del blackout. Ma non è un blackout di solo energia, di telefoni o di internet. È anche un blackout spirituale. Ecco. Qua invece il messaggio dice che appunto non solo quella che l'oscurità si sta avvicinando, ma non solo quella del blackout, che colpirà tutto quello che è stato costruito dall'uomo, ma è l'oscurità spirituale, che diventerà sempre più forte, sarà più evidente, ma soprattutto in quelle persone che non riescono ad amare, quelli proprio privi di amore, quelli che non adorano e che non seguono gli insegnamenti di Dio. Questo è scritto in Apocalisse 19,16. Poi il messaggio dice che la fede appunto è necessaria in ogni momento della nostra vita, in ogni giornata, in ogni minuto che passa della nostra giornata. Noi ci dobbiamo rivolgere a Dio e chiedere aiuto a Lui, non ad altre entità. Ecco. Figli, con il trascorrere degli eventi il nostro amato angelo della pace si sta sempre più avvicinando a voi. Ecco, se non avete letto il libro di Luz de Maria dell'angelo della pace, ve lo metto qui sotto come link da scaricare. Ve lo potete scaricare direttamente voi, è gratuito. Per fortuna Luz de Maria ha fatto tutti i libri gratis, non c'è neanche un libro a pagamento, non chiede offerte né niente, perché appunto così deve essere una persona umile e onesta. Quindi vi metto il link per quanto riguarda l'angelo della pace, per come riconoscerlo e tutto quanto. Lui si sta avvicinando piano piano, ma sta arrivando sulla terra, è già qui sulla terra, ma si sta avvicinando a noi. Come lo possiamo riconoscere? Perché Lui è amore, è fratellanza, è rispetto. Ecco, quindi attraverso questi aggettivi noi lo possiamo riconoscere e Lui ci aiuterà ad avere una fede salda e forte, ma dobbiamo anche credere. Poi, il nostro amato angelo della pace verrà a voi, giovane con me, a trattarvi con amore, come lo richiede il primo comandamento della legge di Dio. Il primo comandamento dice, chiamerà il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e amerà il prossimo tuo come te stesso. Quindi badate sempre ai comandamenti. Se ve li siete dimenticati, aprite la Bibbia e cercateli perché ci sono scritti e se non li trovate fate un'indagine più approfondita perché li troverete. Lui verrà con l'essenza della fratellanza per offrirla a tutti voi, quindi lui arriverà sulla terra, verrà per aiutarci ad essere più fratelli con i nostri fratelli stessi, quindi per aiutarli. Porterà la parola di Dio pur non essendo divino, perché lui sarà in carne ed ossa un angelo, ecco. Lo riconoscerete dalla sua sapienza, dalla sua intelligenza, dal suo consiglio, dalla sua forza, scienza, dalla sua pietà e dal suo timore di Dio. Ricordatevi, non si ha paura di Dio, ma timore che è tutta un'altra cosa. Che cosa vorrà da noi l'angelo della pace? Amore e umiltà, due cose semplici che purtroppo all'essere umano mancano. Perché? L'essere umano ha smesso di amare e ha smesso di essere umile, perché cerca sempre le cose mondane, le cose ricche, la ricchezza, il potere. Ecco, smettiamole di cercare queste cose, ma dobbiamo essere più umili. Poi il messaggio continua dicendo che dobbiamo pregare per il Canada, per la Palestina, la Cina, l'India, perché queste popolazioni si trovano in pericolo. Non che noi in Italia non siamo in pericolo, ma loro sono maggiormente in pericolo, perché possibilmente sono i primi paesi che verranno attaccati in maniera diversa, quindi con la persecuzione religiosa. Quindi, e sarà molto veloce. Poi dice di pregare, perché la terra tremerà in molti paesi. Poi dice di pregare per il corpo mistico della Chiesa, perché patirà. Poi dice anche di pregare il governo mondiale contro il governo mondiale, perché attenzione, questo governo mondiale prenderà il sopravvento in maniera definitiva sopra l'umanità, quindi ci vorranno comandare il nuovo ordine mondiale. Poi dice anche che noi umani, l'umanità vedrà cadere fuoco dal cielo e dobbiamo fortificare la nostra fede per riuscire a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. Non credete a questi UFO cose strane che vi faranno vedere. Gli UFO non esistono, ecco, sono tutte cose immaginarie, ecco, che ci hanno inculcato nella nostra mente negli anni, nei secoli, per farci credere ad una cosa che non è cristiana, ecco, alla scienza, perché quello è tutto creazione della scienza. In questo mese dedicato a noi, difensori del trono paterno e vostri protettori, vi benedico in modo speciale. Quindi, alla fine, il messaggio ci benedice tutti, San Michele Arcangelo. Che dire, questo messaggio è molto bello perché comunque, come sempre, ci avverte di tutto quello che deve accadere. Mi raccomando, non li prendete come messaggi di paura, di terrore, apocalittici, eccetera, eccetera. Sono dei messaggi di avvertimento. Quindi, ricordatevi che Dio non mette paura, ma ti mette il timore di quello che può accadere. Ecco, perché purtroppo deve accadere quello che deve accadere, è scritto nelle Sacre Scritture e noi non possiamo farci nulla. Quindi, questo era il messaggio e un po', diciamo, un riassunto, una spiegazione mia. Voi dovete leggerlo, comunque il messaggio per voi e lo dovete interpretare per voi stessi. Io gli unici messaggi che non vi interpreto e non vi riassumo sono quelli del Libro della Verità, perché quelli sono così come devono essere e li dovete interpretare voi. Quindi, io comunque vi invito a rileggere questo messaggio di San Michele Arcangelo, data Luzi de Maria, vi lascerò il link qui sotto nel primo commento, così voi lo potrete leggere. Io vi ringrazio, vi abbraccio tutti e che Dio vi benedica sempre al prossimo video.